Avrebbero le ore contate due soggetti che, sempre dopo averiggio, in via Beltrami, a Gera, nel quartiere Setteferine, hanno dato vita ad un inseguimento in sella ad altrettante moto, sparando all'impazzata e ferendo di striscio al polpaccio destro un imbianchino di 40 anni, Emanuele Termini, che si trovava in quella zona per caso. La polizia, infatti, dopo attente verifiche tecniche, avrebbe già delineato un quadro chiaro su quanto accaduto, individuando, come dicevamo, i responsabili. Abbiamo, diciamo, ennucleato l'ambito, anche con la collaborazione della squadra mobile di Caltanissetta, con la quale quotidianamente dividiamo gli oneri dell'atteutante mafia. Ci è coscritto la problematica di questo gesto che non dovrebbe, dico, non dovrebbe assolutamente essere collegata agli ambienti della criminalità organizzata. Esclusa la pista della criminalità organizzata, gli investigatori propendono su quella passionale. Diciamo motivi personali, ecco, tra i quali molto probabilmente potrebbe anche essere compresi dei motivi passionali. Nella vicenda criminosa di sabato scorso è strano, ancora oggi, che nella zona non siano state trovate tracce di sangue della vittima innocente e bossoli. Questo rappresenta, diciamo, ecco, la grossa difficoltà iniziale che ci siamo dovuti portare dietro per un paio, tredi giorni, dove non avendo immediatamente il risconto basalare per poter capire in tutta cosa sia successo, siamo stati costretti a fare un mare di accertamenti. Abbiamo anche, per notizia, sequestrato alcuni mezzi che potrebbero essere coinvolti a vario titolo nella sparatoria. E proprio questa forma di, questa lone di mistero che inizialmente, ecco, ci teneva con le mani legate, con grande difficoltà a morci adesso, lo sapete, grazie alla sinergia con la procura è stato abbondantemente superato. Quando verificato, si sapevo lo scorso, riporta alla mente i tempi bui in cui si sparava per strada, mettendo in serio pericolo l'incolumità pubblica. Chi pensa di potersi, non so a quale titolo, soprattutto per quale ragione, farsi giustizia in mezzo alla strada, sparando uno, molto probabilmente anche un paio di colpe, e poteva la situazione essere molto, ma molto più grave.